Buona Pasqua, tanti auguri, la prima cosa che si deve dire in queste condizioni di arresti domiciliari è pensare un po' di festeggiare le nostre case per chi può con la famiglia, per chi non può come il sottoscritto senza famiglia, alcuni addirittura sono in ospedale, quindi insomma, però buona Pasqua a tutti quanti auguri a tutti quanti voi che seguite la Zuppa, anche oggi seguirete la Zuppa, insomma non c'è giorno che non vi perseguiti vi dico subito che domani la Zuppa non ci sarà perché domani non escono i giornali, quindi ci facciamo una giornata di pace però la sera ci sarà una puntata straordinaria di Quarta Repubblica, insomma tutte le comunicazioni ufficiali sono state fatte andiamo su quelle dei giornali, la prima è sulle riaperture delle regioni e che sarebbero divise, anzi sono divise ieri è circolato un whatsapp con l'accordo presunto tra sindacati e governo, perché il governo pare che con i sindacati abbia un peso, il sindacato molto diverso rispetto a quello dell'opposizione nella strategia complessiva di riaperture nelle prossime settimane, vi dico subito che non c'è nulla di certo pensate un po', oggi lo dicono i giornali, che questa vicenda delle riaperture, ad esempio delle librerie e delle cartolerie io poi mi chiedo per quale motivo si debbano aprire le librerie e le cartolerie, posto che sono contento che riaprano io sono delle idee che riaprano perché in sicurezza possono riaprire tantissime cose però mi chiedo la razza per la quale riapre una libreria, quindi io posso uscire di casa con un'autocertificazione e dire che vado in libreria e non posso uscire di casa e andare per esempio da un parrucchiere a tagliarmi i capelli, io non posso uscire di casa, tutto in sicurezza ovviamente perché un settore è considerato così strategico come le librerie, posto che oggi si può comprare online il libro o addirittura si possono vedere gli ebook io adoro i librai, sia chiaro, ma uno degli elementi per i quali io adoro i librai è la socialità che c'è nelle librerie il tempo che si perde nelle librerie a leggere e a spogliare i libri, cosa che ovviamente evidentemente non si potrebbe fare aprono le cartolerie ma le scuole non funzionano e sono tutte digitalizzate bene, sono contento, ogni apertura mi fa felice però insomma un po' di schizofrenia in questo c'è la regione Lombardia nel quale ieri i numeri dei contagiati e dei morti continuano a salire quindi non è per niente sotto controllo in Lombardia beh, insomma, in quella regione hanno deciso di non riaprire né cartolerie né librerie però io mi chiedo, prima o poi qualcuno si chiederà o farà un'analisi sul fatto che nonostante cinque settimane di lockdown in Lombardia con una struttura di controlli rigorosissima beh, continuano ad aumentare i contagiati quindi forse questa strategia del lockdown senza fare i tamponi qualcuno potrà dire non è proprio la cosa più intelligente del mondo perché ci si infetta in casa come dice oggi da qualche parte mi sembra Galli o qualche altro di questi virologi star che stanno parlando adesso ci accorgiamo che ci sia come si dice che ci si infetta a casa e poi ci accorgiamo che se non si fanno i tamponi ci sono persone che presumono di essere state non contagiate che escono e contagiano cose banali che però la regione Veneto ha ben capito perché sta cercando di fare i tamponi a tutti però lasciamo perdere le regioni si comportano divertamente però c'è una cosa molto interessante che scrive oggi il giornale solo lui aprendo e cioè che la Lombardia però si assume l'onere di anticipare il pagamento della cassa integrazione perché come sapete la cassa integrazione che va a decine di milioni a milioni di italiani beh, la cassa integrazione è una procedura che tu già devi fare un po' di procedura burocratica pagare i bolli e tutto poi non ti arrivano subito i soldi siccome qua il problema è i soldi sul conto beh, la cassa integrazione deve essere anticipata da qualcuno la regione Lombardia si è impegnata ad anticipare la cassa integrazione è lo Stato non paga la Lombardia si Fontana anticipa la cassa integrazione è quello che dice il giornale di oggi ovviamente faranno polemica tutti gli altri giornali il giornale unico del virus contiano si farà girare le balle che Fontana paga la cassa integrazione un po' come Zaia fa quello che gli pare per quanto riguarda i tamponi ma così vanno le cose una buona notizia però nel decreto dell'altro giorno che è sfuggita ai più è questa che da il sole 24 ore di oggi ve la segnalo che 400.000 container che erano fermi sulle banchine dei porti potete immaginare voi che disastro dal punto di vista economico secondo l'ultimo decreto l'ultima modifica del decreto insomma potrebbero essere movimentati sulle banchine piccola notizia di un ritorno alla normalità che uno spera che avvenga il prima possibile sullo ritorno della normalità i giornali si interrogano anche su questa vicenda di Colau ex amministratore delegato di Vodafone grande manager persona molto seria come dice Giovanni Pons oggi su Repubblica fuori da tutti i salotti buoni proprio fuori da tutti i salotti buoni magari no ma insomma questa è la tesi dell'uomo ci sono un po' di dettagli però su questa vicenda di Giovanni di Colau insomma il primo nessuno lo nota però tu prendi un grandissimo manager che vive a Londra per fargli gestire la fase di ripresa in Italia va benissimo va benissimo tutto perfetto però vi dà anche un po' di dimensione insomma della concretezza perché quando io leggo il pezzo della Repubblica cioè il titolo della Repubblica che fa pagina 2-3 impazzita Repubblica per Colau e fa bene perché deve essere un bravo manager lo conosco poco ma deve essere sicuramente un bravo manager io penso che non si diventi amministratore delegato di Vodafone così soltanto per motivi politici soprattutto Europe beh insomma deve essere un bravo manager però tra quello ed essere un bravo imprenditore un bravo artigiano un bravo commerciante forse ne passa cioè tra Harvard e la riapertura dell'Italia c'è qualche via di mezzo e questo a Repubblica in maniera un po' contraddittoria da una parte sfugge e da una parte invece risulta perché sfugge quando il titolo di prima pagina del giornale è la terapia Colau poi vai a leggere la pagina 2 e riesce a capire che la terapia Colau che lui sta a Londra è che ha fatto una videoconferenza con i 17 membri e con il Presidente del Consiglio e nella videoconferenza per esempio ha subito detto facciamo le autocertificazioni non in cartaceo beh ci vuoleva Colau una buona idea nel frattempo mi chiedo gli altri 76 esperti del Ministero che sono presso il Ministero della Pubblica come si chiama dell'innovazione se questa idea di fare le applicazioni online e le autocertificazioni sui telefonini non ci avevano pensato perché sono là tutti che ragionano le call le cose le contro call la cyber security tutte ste minchiate il tracciamento eccetera la cosa più normale in un paese normale che tutti hanno un cellulare magari quell'autocertificazione che abbiamo fatto fino ad ora potevamo farla soltanto sul telefonino senza stamparla in una maniera banale non so magari uno se la compilava era difficile fare la firma vuoi la firma cartacea questa è l'Italia di merda che non si potrà mai risollevare comunque questa è la grande idea per ora ovviamente ce ne saranno di moltissime e ottime e dobbiamo soltanto aspettarli al lavoro non distruggiamo quello che ancora non è nato ma Folli sullo stesso giornale in cui ci sono dubbi non ci sono dubbi su Colau cioè su Repubblica dice ma insomma così come è costituita la cosa se lo fa il ministro senza portafoglio partecipa ai ministeri ragiona con i ministri ma fatto così è una specie di consulente che dovrà sempre stare là sotto gli ordini dei ministri che saranno quelli che decideranno lo sviluppo economico l'economia Palazzo Chigi insomma rischia di essere dice Folli sul giornale che dice terapia Colau sullo stesso giornale che cosa dice Folli rischia di essere un centro studi non più che un centro studi un ufficio studi tra l'altro che ha un senso per il Presidente del Consiglio perché il Presidente del Consiglio è straordinariamente bravo nel legare ad altri le scelte che poi sono le sue sono i tecnici che hanno deciso la sanità sono i tecnici che hanno deciso il lockdown sono i tecnici che hanno deciso la fase 2 poi alla fine è una specie di mostro creato da Casalino per cercare di comunicare meglio il nulla di Conte su Colau e su questa task force c'è un'analisi molto intelligente di Sallusti che come me considera Colau sicuramente un grande manager però dice attenzione dopo Harvard e Vodafone c'è avuto due anni 2014 e 2016 che sono un piccolo buco nero che è quando Colau ha fatto l'amministratore delegato in Corriere della Sera non piccolo buco nero perché Colau è stato un ottimo amministratore delegato in Corriere della Sera cioè una persona che ha portato la cultura anglosassone del mercato delle cose da fare cioè ha fatto le cose giuste al Corriere della Sera non gliel'hanno fatta fare in senso che dice Sallusti giustamente io conoscendo la sua grande capacità manageriale quando vai nella sentina dei palazzi romani delle burocrazie romane gente come Cottarelli e come Colau scrive Sallusti rischiano di non prendere una non toccare una palla mi auguro che quello che sto dicendo e lo dico senza infingimenti quello che sto dicendo sia destituito di fondamento mi auguro che Colau grande manager riesca a fare quello che non ha fatto al Corriere parafrasando Sallusti e soprattutto quello che non ha fatto Cottarelli parafrasando Sallusti e riesca a mettere in piedi un piano credibile e appoggiato di ripresa di questo paese me lo auguro perché dobbiamo augurarcelo tutti devo dire che oggi leggo Aldo Grasso e lì già si capiva che c'era poco da augurarselo Mimmo Parisi e voi dite chi cazzo è Mimmo Parisi ve lo dico io Mimmo Parisi era lo straordinario professore del Mississippi tant'è che io una volta mi permisi di fare una battuta a Di Maio quando ancora veniva in trasversione da noi e gli dissi ma chi è sto Mimmo Parisi ma cos'è questa università del Mississippi la grande università che ha inventato i navigator e cioè il reddito di cittadinanza e soprattutto quell'app che avrebbe messo in collegamento un'altra app straordinaria quando c'è un problema il Movimento 5 Stelle è spazzo delle app un'app che mette in collegamento chi vuole lavorare con un lavoro disponibile pensate un po' voi insomma la follia di un'app ad Agrigento che trova il lavoro disponibile con chi vuole lavorare il problema forse è che non ci sono lavori a Cosenza ed Agrigento per tutti i disoccupati ma questo Mimmo Parisi e Di Maio non l'avevano capito ma la cosa straordinaria che io non potevo neanche immaginare è che Mimmo Parisi se ne ritorna via se ne va via ci lascia i navigator che non servono assolutamente a nulla è del tutto chiaro questo ci lascia un reddito di cittadinanza che costa miliardi e che questi signori non hanno fatto i lavori socialmente utili non hanno trovato posti di lavoro sono a casa e prendono più di quanto prende un autonomo chiaro che oggi non può lavorare e sapete che cosa ha fatto Mimmo Parisi se ne è andato via e ha lasciato spese non giustificate di 71.000 euro di viaggi tra l'Italia e gli Stati Uniti 71.000 euro 50.000 euro di auto con autista perché Mimmo Parisi è ovvio che doveva avere un'auto con l'autista e 30.000 euro per l'affitto della casa che mi sembra la cosa più normale perché se tu dal Mississippi lo porti a Roma forse la casa gliela devi pagare ma il fatto che tu spenda 71.000 euro di viaggi aerei io dico ma i grillini toc toc oh ma come vi chiamavate aspetta com'è che si chiama Di Battista Dibba ma su queste spese di Mimmo Parisi vogliamo fare un flash mob Di Maio su queste spese di Mimmo Parisi vogliamo fare qualche cosa o i 150.000 spesi da Mimmo Parisi 70.000 per andare negli Stati Uniti sono una minchiata che ha scritto oggi Aldo Grasso e non è vera tenderei a pensare che quello che ha scritto Aldo Grasso sia vero nel frattempo è fantastica lo scontro con le opposizioni dopo il discorso di Conte che ha attaccato frontalmente sul MES Meloni e Salvini qui fatemi dire due o tre cose che sui giornali secondo me non sono scritte così con chiarezza e che più tardi troverete sul mio sito prima questione Conte dice esplicitamente che nel 2012 la Meloni ha votato questo MES e non è vero perché nel 2012 la Meloni si è estenuta la Lega ha votato contro l'uomo più forte dell'economia della Meloni Crosetto ha votato contro ed era del tutto evidente che quella parte della politica il MES nel 2012 non lo voleva votare chiaro? garantito cosa si dice? si dice guardate che nel 2011 quando la Meloni era ministro senza portafoglio alla gioventù partecipava a un governo in cui Tremonti e Berlusconi avevano dato avvio alla procedura del MES ragazzi anche qua è veramente incredibile oggi Travaglio fa tutta questa pippa non capendo ovviamente nulla di economia Travaglio bisognerebbe spiegare Travaglio e tutti i fenomeni che ci sono in questo momento che è molto semplice non è una cosa complicata la capite bene anche se non siete degli esperti di economia se voi andate in una banca il MES voi siete contro l'esistenza di una banca no voi volete una banca servono le banche questa banca si chiama MES è una banca europea perfetto prima si chiamava erano meccanismi europei precedenti che esistono nel 2008 eccetera questa banca europea nessuno può essere contrario in sé all'esistenza di una banca europea ma il problema è che con gli anni e col cambiamento dei trattati e con il voto di Monti a questa banca europea che cosa gli hanno detto se tu ti permetti di aiutare l'Italia o la Grecia o la Francia o la Spagna beh se tu ti permetti di aiutare l'Italia una volta che hai prestato dei soldi in Italia gli devi fare un culo così in termini di diciamo di controllo dei suoi conti quindi il problema non è l'esistenza del fondo salva stati e sono sempre esistiti i fondi salva stati o meccanismi per prestare dei soldi agli stati in difficoltà è il punto che questo meccanismo votato da Monti cosa faceva obbligava l'Italia a dare i soldi a questo meccanismo perché l'Italia ha dato 100 miliardi di garanzie di prestiti a questo meccanismo una volta che tu gli dai 100 miliardi e volessi usare un po' di questi miliardi perché in quel momento sei in difficoltà cosa succede il fondo salva stati ti mette il cappio al collo perché dice il ministro dell'economia lo scegliamo noi la fisco lo scegliamo noi le tasse le decidiamo noi le pensioni le tagliamo noi la sanità la decidiamo noi come ha fatto in Grecia ecco il punto non è l'esistenza nel 2011 di un progetto del MES peraltro in cui quelli non l'hanno neanche votato ma l'hanno solo valutato il problema è che quando si sono visti i dettagli si è detto ma come si fa a fare una roba che ci strangola cioè le condizioni sono io do al MES 100 miliardi il MES quando avrò bisogno nel futuro me ne restituisce un pochino in termini di prestiti ma me li restituisci togliendomi sovranità è del tutto evidente che qui ci sono due posizioni politiche io non voglio i prestiti e sovranità e io invece mi prendo i prestiti anche rinunziando un po' di sovranità che sono legittime ma il punto fondamentale è che nel 2012 quando il MES fu varato con un trattato e votato dal Parlamento Meloni e Salvini non c'erano Berlusconi lo votò ed è non tutti i berlusconiani lo votarono la ravettono ci sono tanti personaggi anche di berlusconiani che questa roba non la votarono cioè si divise il Parlamento ma certo non lo puoi attribuire a quelli cioè capite qual è la tesi di lana caprina cioè dicono ah ma nel 2011 quando già si discuteva del MES c'era il governo di Berlusconi e c'era la Meloni ma si discuteva dell'esistenza di una banca non del fatto che quella banca ti potesse ammazzare non so se vi è chiaro è una cosa molto semplice oggi il pezzo migliore comunque lo scrive Cottarelli che non la pensa come me ma è molto onesto intellettualmente ovviamente criticando le posizioni diciamo anti MES che ad esempio posso avere io perché in realtà Cottarelli ci racconta leggetevelo i quattro strumenti che ha messo in campo l'Europa sono stati ve li leggo tutti e quattro il cosiddetto SHURE cioè cosa succede l'Europa ci presta dei soldi per pagare la cassa integrazione ma i tassi a cui ci ripresa sono bassissimi e non ci viene a rompere le scatole sui nostri conti la BEI che è una banca europea presterà le garanzie alle imprese e anche questo è molto comodo e poi c'è questo fondo di ripresa quello su cui parla insiste Conte che dice lo stesso è talmente vago che non si capirà quando si farà mai dice Cottarelli che è un ottimista e pensa che si farà io dico che una presa per i fondelli hanno preso tempo nei confronti dell'Italia com'è che si chiama quel grande filosofo tedesco ha definito ha coniato la Merkel il merchevellismo perché va da Merkel e macchiavellismo per il 4 ore prende sempre tempo questo fondo del recovery è una minchiata che non ci sarà mai mi auguro che ci sia perché sarebbe molto comodo sarebbe un fondo che aiuta tutti quanti i paesi europei ma probabilmente dice Cottarelli stesso è molto vago e poi c'è il MES che potrà dare solo aiuti sanitari e quando dà questi aiuti sanitari beh ecco in quel caso non ti dovrebbe strozzare ma è anche vero che dà gli aiuti sanitari soltanto se valuta il tuo debito sostenibile insomma ragazzi facciamola chiara è la solita burocrazia europea quella dei fagiolini delle banane eccetera che mette in piedi complicati sistemi in cui tutti leggono tutto il contrario di tutto ma il principio resta unico l'Europa è lenta è burocratica è completamente simile più all'Italia che all'America che i 2.000 miliardi li ha già dati vi è chiaro? non è che c'è molto di diverso Cottarelli comunque in maniera molto chiara spiega questa cosa oggi ovviamente Travaglio dice che c'è ragione Conte l'altra cosa politica molto interessante è che Minzolini e altri stanno iniziando a parlare del partito di Conte seguendo la intuizione di Bisignani sul tempo di un mese fa nasce il partito di Conte mi sembra che il nome del partito dice Tarallo sulla verità è Conte ed è quotato tra l'8 e il 10% Monti allo Stato Puro Monti allo Stato Puro e il motivo è che però durante la conferenza di ieri l'altra cosa interessante di Minzolini secondo me è i limiti caratteriali che ha dimostrato Conte perché a parte Travaglio che di limiti caratteriali ne ha come se piovesse avete presente il principio di Travaglio Conte è quella roba là un po' esterichetta cioè sei Presidente Consiglio leggi le cose stai parlando alla Nazione nel giorno prima di Pasqua nell'ennesima conferenza stampa insomma almeno dire che un po' esterichetta si potrà dire senza essere presi a calci nel sedere quello che non si può dire sui giornali italiani USA vi più vittime che in Italia ragazzi ma a me anche che questa cosa fa impazzire io non voglio difendere nessuno certo l'idea che un morto su 5 sia in Italia e in tutto il mondo mi fa un po' specie ma che gli Stati Uniti abbiano più vittime dell'Italia è come confrontare pere e mele gli USA sono un continente l'Italia vale sia e no la California sia come PIL sia come popolazione ma come si fa a pari ganare le vittime degli americani e godiamo in questa specie di classifica che quelli che sono più in alto sono i peggiori è una roba disonesta intellettualmente quanto quella di dire Conte che Meloni e Salvini hanno votato il MES non puoi mettere gli Stati Uniti 350 milioni di abitanti o quello che è con l'Italia che ne ha 60 milioni ma che cazzo di ragionamento è chi lo può fare beh vabbè fantastico oggi come sempre Fabbrini quello che ha cacciato il Cervasoni della LUIS leggetevi Cottarelli oggi fate lezione di giornalismo si legge il professore trombone della LUIS che deve avere la sua rubrica sul Sole 24 Ore perché gli era data là il direttore generale della LUIS che gli piace tanto come si chiama lo storto lo dritto beh questo qua gli ha dato o chi gli era data non lo so insomma qualcuno gli era data perché certamente se tu ti legge il pezzo di Fabbrini di oggi in cui inizia così alcuni dicono che quello del vertice dell'Eurogruppo è stato un successo del governo altri dicono le opposizioni dicono che è un fallimento ma poi arriva Fabbrini sapete che dici che dice Fabbrini beh Fabbrini davvero dice cos'è entrambe non mi convincono non è né un fallimento né un successo Fabbrini è Fabbrini lo storto è lo storto numeri uno quelli che insegnano alla nuova classe dirigente come essere belli non lo storti ma dritti e a schiena dritta un successo del governo o un fallimento dell'opposizione siccome non lo sappiamo Fabbrini dice entrambi non mi convincono poi reggetevi i Cottarelli che è uno che le cose le conosce le sa e le studia sulla stampa io non condivido quello che dice Cottarelli ma mille Cottarelli un Fabbrini il problema è che Fabbrini si becca la prima pagina del Sole 24 Ore fantastico è molto bello mi sono dimenticato sulla task force vabbè andiamo avanti sulle ultime cose perché sennò facciamo troppo troppo a lungo beh l'altra cosa stupenda è le nomine di Sala cioè il sindaco di Milano prende e nomina i vertici delle municipalizzate ora è tutta chiusa Milano si nominano i vertici municipalizzate ma la cosa straordinaria è che prende i due renziani che guidavano le ferrovie dello Stato e li mette ai vertici di una municipalizzata che si occupa dei rifiuti allora io voglio bene Sala mi sta anche molto simpatico però toc toc Sala mi vuoi spiegare tu che sei un manager che sai che le cose devono essere fatte ma perché due che stavano a fare le ferrovie dello Stato vengono portati a occuparsi dei rifiuti ci può stare perché sono dei bravi manager come Colau che faceva Vodafone e oggi si occupa della fase 2 ma perché la vera domanda ma perché A2A che peraltro io quando vedo Milano è una cosa una specie di gioiellino A2A vi faccio vedere i numeri perché l'ho letto oggi non so su quale giornale è passata da una capitalizzazione da un valore di borsa di 1,9 miliardi a 5,6 miliardi cioè ha triplicato il suo valore di borsa con questo management i dividendi che poi arrivano a Sala arrivano al comune sono passati da 102 milioni a 208 milioni cioè ha raddoppiato i dividendi il servizio è perfetto rispetto alla monnezza che viene gestita malissimo per esempio Roma e tu che fai cambi vertici caro Sala dietro la faccia del manager c'è ormai il politico perché se tu fossi stato il manager che eri un tempo questi qua non li cambiavi però così vanno le cose mi rendo conto la politica è una cosa diversa rispetto alla managerialità però insomma segniamocela questa cosettina così come ci segniamo oggi il titolo del tempo Conte si fa all'ospedale in casa perché la storia che racconta Becchis che è sempre molto informato sul presidente del consiglio e Casalino che sta arrivando il virus nel resto del mondo non gliene frega niente cioè sostanzialmente non è che fanno tamponi sì tamponi no mascherine sì mascherine no nel frattempo avevano fatto un ordine mi immagino Casalino tutto preoccupato tutto vestito perché hanno ordinato i camici hanno ordinato l'ossigeno hanno ordinato le mascherine hanno ordinato le mascherine fp3 hanno i guanti tutto io mi immagino le riunioni con l'ossigeno da una parte di Casalino e dall'altra Conte che si mette si toglie la pochetta e si mette l'fp3 quell'altro si mette poi Casalino tutto con la tuta immaginate tutto con la tuta Casalino tutta la tuta bianca non di latex non so di che cos'è in cui si vedono a Palazzo Chigi beh l'idea che Becchis oggi trovi sugli ordini che Palazzo Chigi ha fatto di mascherine tute ossigeno e guanti quando nel resto d'Italia i medici non ce l'avevano mi fa davvero sorridere anzi piangere tanti auguri a tutti quanti voi per un'ottima Pasqua anche se da reclusi anche se gli arresti domiciliari c'è poco da cantare ai balconi c'è da sperare che questa cosa finisca il prima possibile ciao